Buongiorno perline, nuovo video, nuovo tutorial dei miei orecchini mirò. Per poter realizzare il seguente modulino abbiamo bisogno di rivoli da 14 mm, rocai 8.0, mezzi cristalli da 4 mm, rocai 15.0 e rocai 11.0. Il primo passaggio da fare è inserire sul filo 9 rocai 8.0 alternate ad altrettanti mezzi cristalli, ripassare all'interno delle perline e chiudere a cerchio. Io per comodità l'ho già fatto. Ecco qui. Allora una volta realizzato, una volta chiuso a cerchio, fatto i nodini eccetera, dobbiamo uscire da 1.8.0. Inseriamo sull'ago 3 rocai 11.0 e ci infiliamo nella 8.0 successiva. Quando facciamo questo passaggio dobbiamo spostare la tripletta all'interno del lavoro, in questo modo qui. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro e usciamo dalla rocai centrale della tripletta inserita. Allora una volta fatto questo passaggio usciamo dalla rocai centrale della tripletta appena inserita. Inseriamo un'altra rocai 11.0 e ci inseriamo nella rocai 11.0 centrale della tripletta successiva. in questa maniera. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Allora una volta effettuati e aggiunti tutti quanti tutte quante le rocai, tra gli spazi, tra le triplette in pratica, ci troviamo così e usciamo da un mezzo cristallo. A questo punto noi aggiungiamo 7 rocai 11.0. 3, 4, 5, 6 e 7. Usciamo dal mezzo cristallo e ci inseriamo nuovamente nello stesso mezzo cristallo. Così. Usciamo dalla 8.0 e ce la faccio e dal mezzo cristallo successivo. E aggiungiamo nuovamente 7 rocai. Facciamo questo lavoro per tutto il giro. Allora una volta aggiunto le 7 rocai usciamo dalla quarta delle 7, quindi da quella centrale. Inseriamo una rocai 11.0 e ci inseriamo nella centrale delle 7 successivo. Facciamo questo per tutto il giro. Dopodiché inseriamo il rivoli rivolto verso il basso e tiriamo il lavoro. Vedremo che il rivoli è perfettamente incastrato, incastonato tra le perline. Allora ci ritroveremo così. Il rivoli è perfettamente ingabbiato all'interno. A questo punto usciamo da un mezzo cristallo, inseriamo due rocai 11.0 e ci inseriamo nel mezzo cristallo successivo. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Una volta effettuato il giro, quindi aggiunto le due rocai tra i mezzi cristalli, fuoriusciamo da una rocai 11.0 delle due appena inserite. Prendiamo una 8.0 e ci inseriamo nella 11.0 successiva. Chiaramente la sistemate. Prendiamo due rocai 11.0 ed entriamo nella prima della coppia sopra la 8.0. Dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro. Allora una volta effettuato questo giro non ci manca che l'ultimo giro in cui entrano in gioco le 15.0. In pratica qui dobbiamo fare una sorta di peyote. Quindi usciamo da una 8.0. Prendiamo una 15 e ci inseriamo nella rocai, nella prima rocai della coppia che abbiamo appena inserito. Prendiamo un'altra 15 e ci inseriamo nella rocai 11.0 successiva. così. Prendiamo un'altra 15 e ci inseriamo nella 8.0. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui il modulino concluso. Allora io trovo che sia molto compatto, molto carino, abbastanza piatto e lo userò per fare un anello visto che gli orecchini li ho già fatti. Niente, spero che il modulo vi piaccia, che i passaggi si siano capiti. Sono un po' inesperta, vi chiedo scusa. E niente, alla prossima, ciao!